Mezzo milione per gli impiantisti bellunesi. La provincia è pronta a erogare la somma messa da parte già a dicembre. Nei giorni scorsi la determina che sblocca la distribuzione delle risorse. Le società che possono ottenere il sostegno sono 27 ma dovranno presentare la richiesta entro il 9 luglio confermando l'aderenza ai requisiti. Se Palazzo Piloni ha atteso finora è per evitare di annullare l'efficacia della misura. Abbiamo dovuto attendere qualche mese per verificare che il contributo provinciale non inficiasse eventuali bonus o sostegni da parte dello Stato, spiega il consigliere provinciale delegato agli impianti a fune Massimo Bortoluzzi. Ora che questo rischio non sussiste possiamo finalmente dare seguito alla manovra. Un quarto della cifra stanziata, 125.000 euro, verrà suddivisa tra tutte le 27 società. La base di partenza è quindi di circa 4.600 euro a testa. Il resto viene determinato sulla base dei costi di gestione con un sistema di punteggi che servirà per una spartizione proporzionale dei 375.000 euro rimanenti. Per le sciovie 1 punto, per le seggiovia collegamento fisso 2, per le seggiovia collegamento temporaneo 3, per cabinovie e funivie 4 punti, per il campo scuola 5 punti. La cifra che abbiamo messo a disposizione forse è piccola, a mente il consigliere provinciale delegato al turismo Danilo Detoni, ma è il massimo che possiamo fare. Secondo una stima di ANEF Veneto, riporta il consigliere, gli impianti a fune producono un fatturato di 60 milioni di euro e un indotto turistico complessivo di circa 600. Quando gli impianti chiudono salta di fatto tutto il comparto, compresa l'ospitalità, il commercio e l'artigianato.